buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 14 febbraio 2024 oggi è un giorno particolare il giorno delle ceneri ed è un giorno di san valentino abbiamo una dicotomia perché a un certo punto da una parte si invita alla penitenza alla riflessione e dall'altra invece alla festa alla gioia infatti è la festa degli innamorati comunque oggi è il giorno delle ceneri ed inizia la quaresima 40 giorni alla pasqua un cammino appunto di riflessione e penitenza le ceneri pensate si ricavano dalla bruciatura dei rametti d'ulivo benedetti nella precedente domenica delle palme ovvero l'anno scorso comunque per quanto riguarda san valentino possiamo dire che era vescovo di terni ed è considerato protettore degli innamorati perché a suo tempo diede una grossa somma di denaro ad una ragazza che altrimenti non si sarebbe potuta sposare ecco perché è stato il patrono di coloro che si vogliono bene di coloro che sono innamorati quindi festeggiamo contemporaneamente le ceneri ma anche san valentino e vediamo ora le previsioni del tempo oggi è un tempo stabile solleggiato in tutta la regione le temperature minime sono in calo abbiamo la minima 5 gradi la massima 13 ebbene i venti sono deboli sulle coste da ovest nell'entroterra da ovest sud ovest il mare leggermente mosso il sole sorge alle 7.10 e tramonta alle 17.32 ebbene fatto questo preambolo vediamo subito i giornali apriamo oggi il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo l'apertura l'apertura dedicata ad un importante investimento di carattere sportivo che è stato annunciato ieri in modo particolare dal presidente della provincia Giuseppe Paolini dal sindaco di Fano Massimo Seri e dall'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori eccolo qua si parla del campus e quell'impianto sportivo vicino ai licei classico e scientifico appunto di via Tommassoni un'area sportiva importante dove si pratica in modo particolare il rugby oltre all'atletica ebbene in questo caso dal PNRR sono stati dati 2.700.000 euro una cifra considerevole per realizzare un miglioramento molte altre attrezzature verranno realizzata sarà realizzato il campo in erba sintetica spogliatoi, servizi abbiamo due tribunette da 160 posti l'uno un ingresso dedicato pista d'atletica, pedane per i salti, lanci, nuova illuminazione insomma veramente si fa di tutto per valorizzare questo impianto sportivo che divide il campus scolastico dal cimitero urbano insomma una zona sportiva importante perché è un'area verde poi a servizio della città ed è stato così presentato con grande, grande soddisfazione dagli amministratori che sono riusciti ad assicurarsi questo importante contributo questo importante finanziamento ed ora diamo anche un'occhiata alla seconda apertura del Corriere Adriatico dedicata all'ultimo giorno del Carnevale ieri una giornata particolarmente intensa di manifestazioni che hanno dato addio alla più importante manifestazione dal punto di vista della promozione della città di Fano e anche della coltivazione della tradizione brucia il pupo del Carnevale in Duomo l'ultimo spettacolo e quello del Duomo è stata veramente la novità di questa edizione del Carnevale uno spettacolo sacro prima che inizi la Quaresima quasi per così favorire il trapasso tra il periodo del divertimento a quello della penitenza ed è stato uno spettacolo suggestivo quello che si è svolto in Duomo ieri dalla compagnia teatrale ex novo insieme alla cappella musicale del Duomo c'è stato però un peccato chiamiamolo tra virgolette la cattiva acustica del Duomo ha impedito a molte persone di capire il senso di quello che dicevano gli attori gli attori hanno agito in maniera corale per cui le loro voci hanno rimbalzato tra le volte della cattedrale purtroppo sono ricadute quasi incomprensibili da oltre la metà degli spettatori e beh insomma comunque l'atmosfera era molto molto suggestiva gli attori bravi bravi anche e soprattutto i musicanti i coristi della cappella musicale del Duomo diretta dal maestro Baldelli e ora vediamo la cronaca che non manca questa mattina sui giornali abbiamo a fondo pagina un violento alterco in famiglia un giovane addirittura a coltella il padre un fendente l'uomo è stato ricoverato per fortuna non è in pericolo di vita al pronto soccorso dell'ospedale di Fano una coltellata ha concluso un alterco scatenatosi tra padre e figlio in un'abitazione di Santorso l'episodio è avvenuto ieri pomeriggio l'uomo ha avuto un fendente appunto al corpo ed è stato trasportato all'ospedale e dopo le comprensibili preoccupazioni per la sua vita si è appurato che insomma le sue condizioni erano stavano migliorando e ora i poliziotti stanno cercando di ricostruire la dinamica che ha scatenato questa lite comunque si sa che in questa famiglia c'erano delle turbative che erano in atto da tempo una situazione familiare complessa così viene definita l'altra notizia di cronaca si riferisce ad un episodio edificante dobbiamo così classificarlo in quanto all'ospedale Santa Croce è morta una paziente di 73 anni i familiari hanno deciso di donare gli organi della donna a chi ne ha bisogno muore una donna dona la vita prelevati fegato reni e corne morendo ha donato la vita ad altre persone ebbene ci sono stati dei ringraziamenti molto molto significativi per esempio l'assessore regionale alla sanità Salta Martini ha dichiarato la donazione degli organi sottolinea è un atto di generosità e solidarietà che può salvare le vite e migliorare la qualità di vita di molte persone dunque un ringraziamento sentito alla famiglia per il gesto altruistico in un momento sicuramente molto doloroso un grazie va anche l'altissima professionalità ovviamente degli specialisti coinvolti in questo processo molto molto complesso insomma anche l'equipe che ha proceduto all'espianto è stata un'equipe dotata di una professionalità altamente qualificata e poi di spalla a margine di questa pagina troviamo un altro varo della Wider nel porto di Fano secondo varo alla Wider in acqua il primo yacht Wider 60 un importante passo avanti sul piano costruttivo uno scafo più piccolo di quello che ha inaugurato tutti i vari della Wider nei giorni scorsi nella Darsana Fanese ma uno degli scafi molto molto qualificati dal punto di vista delle linee d'arredo delle prestazioni nautiche della comodità del comfort che sono una prerogativa dei cantieristici fanesi veniamo alle altre notizie abbiamo ancora un'iniziativa che riguarda Fano sulla pagina della Val Metauro mangiare sano per vivere meglio una conferenza e una cena salutare organizzata dalla CNA alla Bocciofila la combattente stasera nella sede appunto della Bocciofila e poi ancora cronaca ancora cronaca questa volta ci viene da Cartoceto vendono falso olio DOP la pena lavori sociali a Lauser sì del giudice alla messa alla prova degli amministratori dell'azienda della Collina che hanno venduto dell'olio spacciandolo per olio di Cartoceto che invece così non era l'olio non era DOP il supermercato chiede 100.000 euro di risarcimento a processo con l'accusa di frode in commercio sono finiti i due amministratori di questa società agricola di Cartoceto e poi dopo dieci anni si pagano i conti rimasti in sospeso è capitato così ad un bulgaro di 47 anni che dieci anni fa rubò nel nostro territorio proprio a Cartoceto un grosso quantitativo di rame il rame è un elemento minerale molto molto prezioso non dico come l'oro però insomma ci va abbastanza vicino e questo cittadino bulgaro aveva rubato un ingente quantitativo del rame di diverse decine di migliaia di euro a suo carico c'era anche l'aggravante del danneggiamento sulle cose ebbene dopo dieci anni è stato rintracciato nella sua nazione ed è stato appunto arrestato deve scontare una condanna a quattro anni e quattro mesi quanto si dice insomma che tutto poi alla fine bisogna pagare c'è la resa dei conti veniamo veniamo a Marotta dove si è verificato un incidente e per fortuna le conseguenze potevano essere più gravi ma questa volta sembra che siano andate piuttosto bene ebbene uno schianto contro un muro tre miracolati sulla litoranea un'auto rimbalza e fa saltare un contatore dell'acqua però nessun ferito grave si tratta di tre lavoratori bengalesi che si trovavano a bordo di una Peugeot diretta verso Fano l'autista ha perso il controllo dell'auto ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro un moretto di recensione dove appunto c'era anche il contatore dell'acqua probabilmente la velocità un malore qualcosa del genere comunque adesso le indagini stanno appurando quali sono state le cause vere dell'incidente e allora passiamo a Senigallia dove anche qui la cronaca oggi appare in prima pagina si tratta di una indagine sulla coltivazione della droga che ha scovato una piantagione dove si stavano coltivando 13.000 piantine di cannabis nel terreno si coltivava questa sostanza ed è stata scoperta dalla finanza nelle campagne di Ostra ebbene in fumo profitti pensate che la quantità era tantissima una produzione di oltre 14 tonnellate di stupefacente veramente una coltivazione ingente che avrebbe potuto fruttare un milione e mezzo di euro in questo caso sono scattate ben tre denunce vediamo ora la pagina di Pesaro che è dedicata alla raccolta dei rifiuti si sa che a Pesaro la raccolta sta subendo delle innovazioni in merito all'istituzione di cassetti di cassonetti intelligenti così possiamo definirli in quanto sono fruibili attraverso le schede da parte degli utenti ma non tutti non tutti si assoggettano a questa nuova novità e continuano con la vecchia prassi ancora un po' di tolleranza da parte di Marche Multiservizi e poi si passerà alla repressione caccia a rifiuto selvaggio dice il titolo Marche Multiservizi sguinzaglia lo 007 per individuare i furbetti e setaccia anche di notte la ZTL raccoglierà l'immondizia lasciata illegalmente fuori dalla Ecoisole e per strada e qua vediamo un po' i nuovi cassonetti e vediamo quelli vecchi che verranno soppressi bisogna ripulire questi cassonetti vediamo ancora altre notizie che riguardano Pesaro ma vediamo anche un po' la provincia perché in quest'altro articolo vediamo la soddisfazione di due sindaci Gambini e Seri Urbino e fanno per quanto riguarda l'inizio dei lavori per la riapertura della Galleria della Guinza ma non tutti i sindaci però sono dello stesso parere abbiamo visto ieri quando c'è stata la notizia dell'inizio dei lavori c'era la soddisfazione degli amministratori della regione ovviamente di coloro che ci sono impegnati per riprendere questa opera però ci sono dei sindaci che sono più propensi a ripristinare e impiegare appunto questi soldi i collegamenti con la costa piuttosto che con l'Umbria dato che mancano ancora dei tratti diari per effettuare veramente un collegamento continuo per tutta la Fano Grosseto In competenza e approssimazione la cittadella del basket e la riprova terreno franoso stop ai lavori Fratelli d'Italia elenca gli errori dell'amministrazione comunale per quanto riguarda questo progetto che insomma fatica a prendere vita e a realizzarsi infatti Fratelli d'Italia evidenzia come l'opera sia stata prevista in un terreno franoso sotto la cittadella del basket di Villa San Martino altro esempio di approssimazione così viene definito dell'amministrazione comunale e un altro progetto che fatica a prendere vita è quello di Villa Marina bando d'asta entro giugno ma si deve trattare per un nuovo prezzo ovviamente un prezzo in aumento dopo i pannelli antidegrado in primavera arriva la foto installazione degli studosi fiscaletti e perugini e poi la capitale della cultura Pesaro sbarca in Australia venerdì un'iniziativa al consolato di Brisbane con i pesaresi residenti ovviamente anche in Australia sono i pesaresi sono i residenti della nostra provincia invece nella pagina di Urbino ritroviamo la foto dell'ex sindaco di Pesaro ed ex parlamentare Oriano Giovannelli che si era fatto il suo nome perché si era fatto il suo nome quale candidato sindaco della città di Urbino in realtà poi il partito democratico ha cambiato idea ed ora punta su Scaramucci Oriano Giovannelli molto molto filosoficamente dice sono contento di aiutare Scaramucci e sono contento soprattutto che insomma qualcuno abbia rifatto il mio nome per questa prestigiosa carica della città ducale ricordiamo anche che Giovannelli era originario di Gadana quindi è proprio di queste parti ed ora chiudiamo il Corriere Adriatico e vediamo invece il resto del Carlino dove in apertura troviamo sempre il nuovo investimento sul campus sul campo sportivo del campus scolastico di via Tommassoni a Fano dal rugby alla pista di atletica al campus una nuova area sportiva ebbene qui vediamo i tre amministratori che indicano sulla carta il progetto che verrà realizzato al dia da lunedì prossimo gli interventi previste anche due tribune da 160 posti e spogliatori attualmente il campus è un campus un po' così lasciato non dico non è in degrado perché viene praticato costantemente dalla società abbiamo le porte alte per il rugby abbiamo tanti ragazzi che si allenano d'estate c'è anche l'asi che fa i suoi corsi però insomma ora viene rivoluzionato il tutto campo in erba sintetica attrezzi insomma veramente una bella cosa ecco perché viene dato tanto spazio a questa notizia e qua vediamo anche un'immagine del rogo del pupo che ieri in un battibaleno se ne è andato in cenere in fumo e così è finito il carnevale non abbiamo più qui il nostro voulon che per tre settimane insomma è stato qui sulla nostra scrivania a simboleggiare l'importanza del carnevale ed ora è quaresima ma oggi però ricordiamo non ho un cioccolatino ma insomma però era la festa dei innamorati e quindi magari un fiore un cioccolatino qualcosa bisogna donare alla persona amata recupero dell'ex Manfrini a giorni ci sarà la gara per questo nuovo intervento di qualificazione nel porto di Fano l'assessore a Cucchiarini realizzeremo un auditorium al primo piano e al museo della marineria al piano terra uno stabile che verrà in degrado da molto tempo questo sì che è veramente in degrado e finalmente verrà restaurato e verrà riqualificato benvenuti a Mondolfo la patria dei Ser Filippi questo è un articolo che riguarda una ricerca sul cognome più diffuso a Mondolfo ebbene Ser Filippi è proprio quello che ha il primato seguito dai Santini e dai Vitali queste d'altre curiosità nel libro di Sergio Anniballi che indaga pure i nomignoli e sono quelle curiosità simpatiche che insomma vengono apprezzate da chi abita nel circondario al centro la notizia di quanto è avvenuto a Santoso a coltella il compagno della madre dramma a Santoso e poi tentò di rubare tre quintali di rame preso in Bulgaria dieci anni dopo l'uomo un 47enne ora deve scontare quattro anni e quattro mesi di carcere giriamo ancora la pagina e vediamo la pagina di Urbino un nuovo magazzino per la protezione civile il sindaco Gambini intende comprarlo al sasso per 300 mila euro servirà anche per le contrade per i materiali da tenere in deposito un deposito per tante tante necessità che evidenziano le popolazioni vediamo ora le pagine pesaresi del resto del Carlino dove si inizia con un fatto di cronaca che è avvenuto in ospedale paura in ospedale insultata e inseguita da uno sconosciuto una dottoressa sotto shock è successo la scorsa notte verso le 4 del mattino il medico era in turno un uomo ha cominciato a inveire e lei è scappata lui le è corso dietro poi lei si è chiusa in reparto fatto denunciato al sindacato e ai carabinieri ebbene è stata pesantemente insultata questa dottoressa e poi rincorsa da uno sconosciuto che si era introdotto in ospedale alle 4 del mattino e questo è un episodio non è isolato un episodio che spesso si ripete persone che inveiscono nei pronto soccorso persone che nei corridoi dell'ospedale magari aggrediscono gli infermieri i sanitari coloro che magari cercano di fare il loro dovore ma dobbiamo capire che la medicina non è una scienza esatta la medicina è una scienza è una scienza che si avvale su dei procedimenti su degli programmi su dei progetti veramente codificati però insomma l'imponderabile può sempre accadere e se non c'è la malafede il dottore il medico l'infermiere non può ovviamente fare altro lei è una dottoressa di 47 anni che ha subito questa aggressione dipendente dell'azienda sanitaria era in servizio al reparto di medicina del San Salvatore ed era scesa appunto nel reparto di medicina d'urgenza per un ricovero e mentre tornava nel proprio reparto quello del padiglione C si è imbattuta nello sconosciuto alto magro scuro di pelle vestito con un giubbino beige e senza un apparente motivo questo ha cominciato a inveire contro il medico facendo gesti aggressivi e intimandole vieni qui la dottoressa ovviamente è scappata con paura per quanto stava accadendo e per fortuna non ci sono state conseguenze comunali comunali un sondaggio a metà il centro-sinistra avanti di 11 punti rispetto al centro-destra nel comune di Pesaro nascosti i giudizi sui candidati in questo momento non vengono resi noti fatta filtrare solo una parte dei risultati di questo nuovo sondaggio sondaggio che promuove comunque Ricci e la Giunta bene la cultura e il turismo insomma Pesaro ha raggiunto il massimo della cultura come capitale nazionale della cultura però c'è anche una bocciatura sui fronti della manutenzione delle strade e del traffico e questo veramente è un punto nero quasi di tutte le amministrazioni comunali che non riescono poi a supplire secondo le esigenze alle necessità della normale manutenzione di strade di infrastrutture insomma di tutto quello che occorre mantenere in buone condizioni si parla ancora degli affitti dell'emergenza abitativa nel comune di Pesaro dalla farmacia alla gelateria ecco quanto incassa il comune la mappa degli affitti c'è anche una orificeria con un canone di soli 373 euro ma c'è una spiegazione se ne va tra gli affittuari le poste i carabinieri l'ami la coppia e l'autoclub legambiente amici della vis queste insomma le associazioni che sono in affitto in strutture comunali ho perso 550 euro nel cassonetto mobilitazione per recuperarli nel cassonetto della raccolta dei vestiti disavventura per Ugo Betti i soldi erano in un giubbotto che è stato appunto gettato per errore nel cassonetto degli abiti da buttare insomma 550 euro non è una cifra trascurabile e quindi c'è stata tutta una mobilitazione per cercare di ritirarli fuori ebbene siamo ormai in conclusione solo l'ultima notizia per quanto riguarda il resto del carlino vediamo se riesco a recuperarla beh insomma non c'è molto tempo ma comunque guardate che pagine fa il giornale per quanto riguarda gli auguri che si scambiano gli innamorati ce ne sono tantissimi faccio qui una carellata ebbene volersi bene è la cosa più importante di questo mondo e con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 con il TG di Fano TV Occhio alla Notizia e domani per una nuova rassegna stampa alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci a risentirci